allora c'eravamo lasciati venerdì con il possibile accenno di questa figura di megafono per il dax qua siamo sul dax a due ore adesso oggi guardiamo il grafico a candele normali oggi l'america era chiusa quindi volumi più bassi ovunque comunque c'è stato movimento perché il dax ha finito a più 287 e quindi guardiamo prima la situazione dall'alto siamo sempre all'interno appunto di questa figura megafono sono state superate le resistenze a 11.003 abbiamo chiuso poco sopra 11.366 l'impostazione della volatilità stop line è tornata positiva quindi ha preso una inclinazione abbiamo gli indicatori di direzionalità ancora bassi vedete che il la dx sotto tracciato la linea di 30 che statisticamente 30 per la dx è uno spartiacque sotto 30 no trend sopra 30 situazioni di trend quindi comunque a prescindere da 30 non trend è basso è ancora al di sotto del dmi plus e tra l'altro in chiusura anche se questo non vuol dire niente per ora per ora non vuol dire niente però comunque in chiusura il massimo non ha coinciso con il massimo del dmi plus quindi si è formato vedete c'è un nuovo massimo sui prezzi no rispetto al top del 19 maggio che corrisponde a questo massimo del dmi e abbiamo avuto un massimo più basso non è ancora finito il movimento perché da un punto di vista dei prezzi il movimento non è finito per questo dico per ora non vuol dire niente perché dobbiamo prima aspettare che si giri sui prezzi si è girato l'indicatore ma finché non si girano i prezzi non possiamo chiamare il top in divergenza però non ha chiuso benissimo ecco qui non c'è momentum ancora una volta quindi poi se andiamo apriamo un attimo la figura vedete come il fenomeno no no della di questa diciamo trend la di queste due trend line che si aprono no guardate come oggi è andato a toccare questa è stata la prima candela quella delle 9 dalle 9 alle 11 qualcuno mi chiedeva perché guardi quello a due ore è un intraday come un altro no cioè un'ora due ore due ore mi piace perché le candele quelle con maggiori volumi sono rappresentate in una candela sola quindi dalle 9 alle 11 che sono l'orario dove c'è maggiore attività e poi c'è quella dalle 15 alle 17 che questa qui oggi non fa testo perché appunto l'america era chiusa però normalmente il pomeriggio dalle 15 alle 17 con l'america aperta anche questa candela è abbastanza significativa e quindi la rappresentazione questa dalle 9 alle 11 in realtà alle 11 era già arrivato a 11 3 quindi poi il resto della giornata è stato un consolidamento un lento driftare verso l'alto però vedete come i prezzi per tre candele consecutive si siano fermati lungo questa come se fosse 9 eppure cioè voglio dire questo è un livello veramente tracciato sulla sabbia però avvengono questi fenomeni e tra l'altro guardate anche le volte precedenti questo il 20 maggio questo è il 19 maggio e questo è l'11 maggio i massimi di queste candele sono tutti allineati con questa trend line quindi secondo me questo è importante nel senso che è una figura che normalmente segna un top probabilisticamente è un top però potrebbe anche essere rotta alla rovescia con una percentuale più bassa per il momento non abbiamo tutti questi segnali di forza tra l'altro siamo vicinissimi alle resistenze a 11 6 che lo ricordo ancora una volta segnano il 68 per cento di 61 e 8 per cento di ritracciamento del movimento ribassista precedente c'è un obiettivo calcolato col metodo di plumber adesso non entro qui ai nei dettagli comunque questa linea gialla e poi c'è la resistenza grafica visibilissima data da questo gap dove sono ora con la freccia del 6 marzo 6 9 marzo e che passa proprio per dove siamo adesso 11 4 e 60 sta per chiudere il gap quindi tutta questa fascia di resistenza è molto importante siamo molto vicini quindi manca poco all'obiettivo di questo movimento che ormai si prolunga da due mesi il fuzzimib non è in questa situazione nella situazione del dax rimane piatto oggi più 1 e 6 però è 17 5 che valeva 17 5 il 25 di marzo quindi oggi è il 25 di maggio quindi sono due mesi esatti e siamo sempre fermi lavora questo ce lo dice la volatilità stop line bella piatta a prescindere che sia verde o rossa tanto è flat quindi è questo è quanto vedete anche la differenza la dx bassissimo non c'è direzionalità e qui dobbiamo vedere ben altro ben altro io mi sposterei a questo punto oggi ci facciamo una carrellata no perché uno guarda le diciamo oggi più 2 8 più 3 partito il trend più 2 ok l'indice il trend non c'è vediamo i titoli guida famosi quelli che una volta si chiamavano titoli guida i titoli allarga e capitalizzazione cosa stanno facendo approfittiamo per farne una panoramica vediamo in una giornata come oggi allora il titolo adesso più capitalizzato del fuzzi mib e enel quindi cominciamo da enel vediamo enel oggi più 1 e 5 e ha un'impostazione positiva perché ricordo chi a chi segue le analisi lo sa perché dai giorni precedenti l'abbiamo detto più volte un settore che nel listino italiano si sta muovendo quello delle utilities quindi enel anzi si è mossa per ultima quindi è qualche giorno che sta mostrando un po di forza relativa sul grafico qui a due ore impostato bene i volumi non sono un granché oggi vabbè ripeto oggi con l'america è chiusa chiaramente è stata una giornata di volumi più bassi c'era da aspettarselo però è adesso alle prese con la resistenza importante a 6 e 5 quindi è comunque ancora all'interno del grande la grande fascia laterale che è in atto da fine marzo quindi è nell'impostazione di breve positiva ma non possiamo dire che sia in un uptrend vero e proprio eni altro titolo a larga capitalizzazione eni addirittura questa è alla rovescia c'è la volatilità di stop line inclinata al ribasso assolutamente anche qui poco direzionale e sicuramente non impostata rialzo neanche nel breve termine almeno fino a quando non supererà 84 e poi andiamo più in basso fiat fiat flat 76 deve superare 8 volatilità di stop line rossa adx ai mi sta andando verso i minimi quindi anche qui nessuna direzionalità generali e volatilità stop line rossa si si è portata l'altro giorno era stata una giornata brillante quella di venerdì quindi con un ecco questo è un hammer una candela a martello sul minimo attestato 11 680 è partita verso l'alto oggi sta consolidando vediamo se dovesse passare 12 e 3 potrebbe cambiare almeno l'impostazione di breve l'impostazione di medio è assolutamente fletta anche per generali andiamo avanti intesa altro titolo a larga capitalizzazione assolutamente piatto fino a quando non supererà 1 e 5 non possiamo dire niente sta oscillando qui nelle vicinanze in questo è preoccupante per tutto il settore bancario la vicinanza sui minimi e andiamo su me banca lo stesso adesso su questi nomi di lungo perché comunque l'andamento è simile ferrari che ormai è entrato fra ferrari ha un'impostazione sul daily e sul weekly abbiamo detto più volte migliore degli altri uno dei pochi che è sopra le medie e anche se è in fase laterale dal 17 aprile comunque è un'impostazione buona e va seguito perché è su delle resistenze importanti quindi al superamento di questo 150 comunque per me già alla tenuta di 146 l'avevo detto più volte 147 un segnale positivo se le ulteriori incrementi al superamento di 150 potrebbe perché almeno vogliamo vedere che la volatis stop line prenda un'inclinazione positiva vedere che la di x è basso però ecco ferrari era già impostato bene a prescindere dalla performance di oggi che comunque fa più 1 e 77 stm che un altro dei titoli della larga capitalizzazione impostazione di breve flat negativa attenzione a questa un attimo questo non va bene volevo evidenziare questa qui magari rimarchiamo la meglio questa linea bianca tratteggiata perché questo somiglierebbe a un testa e spalla di inversione però alla rottura decisa di questa linea bianca tratteggiata seguiamola vedete si sta infilando in questo cuneo quindi con adx ai minimi stm fra poco esce e ci dirà da che parte ci fa una gamba e generalmente da quelle figure escono dei movimenti di qualche punto percentuale e finirei con unicredit che comunque rimane anche se chiaramente si è dimezzato dai massimi di febbraio massimi relativi di febbraio e comunque rimane ancora tra i titoli a maggiore capitalizzazione la tendenza rimane quella del settore bancario quindi vicino ai minimi nel breve ha superato la volatilità stop line però c'è questa trend line ribassista qui diciamo sopra sette cominciamo a parlarne ma per il momento quindi i titoli principali del listino sono tutti il bull market non c'è quindi non fa come sempre concludo dicendo sempre la solita cosa non facciamoci incantare dalle titoloni dei giornali dalle performance indice di fiducia migliore delle aspettative stamattina titolavano sì invece di 77 ha fatto 78 parlo degli indici economici che escono al mattino dovremmo essere a 90 quindi non facciamoci ingannare dai né dai titoloni né dalle percentuali dei rialzi perché poi dobbiamo andare a vedere nei dettagli di cosa stiamo parlando per evitare di cadere nelle trappole nelle trappole nelle bull trap e non dobbiamo avere paura di perdere i treni perché non c'è ampio tempo per entrare e quindi però vogliamo a vedere una struttura di alzista come si deve soprattutto sul sull'istino italiano il dax quantomeno si sta sforzando di assumere comunque anche lì abbiamo visto ci sono divergenze i volumi sono bassi insomma le cose che aveva detto più volte per cui niente ci aggiorniamo a domani domani riapre l'america quindi vediamo un po che novità ci porterà questa settimana è tutto per oggi e grazie per l'ascolto se avete commenti come sempre io non ogni tanto mi dimentico di dirlo ma rimane sempre valido quindi se avete segnalazioni o titoli particolari che seguite che pensate possano essere di interesse lasciatemelo giù nei commenti vediamo di analizzarli a domani